Sono vestito come il benzinaio, scusate, però d'altra parte lo show deve continuare, vuoi? Faceste un grosso applauso a Paji on Bass, la seo guitar, vabbè, alla chitarra, alla batteria, il signor Giona, la chitarra, il soundwriter, praticamente l'olaf della situazione, il signor Embo, e alla tastiera un grosso applauso per il figlio di Mika Akinel, Mika Akinel! Grazie, grazie, questo è un applauso, il più bello, che è quello che piace più a me, io sono Giulia, sentite la Shadows and Rain, è quello che piace di più anche i crocchi, quindi fate casino, ok?